Sofì Codegoni e Alessandro Basciano, coniugi noti principalmente per la loro partecipazione al grande fratello e per essere diventati genitori della piccola Selin, sembrano essere di nuovo sul punto di riavvicinarsi dopo mesi di alti e bassi nella loro relazione tumultuosa. Dopo aver annunciato la separazione un anno fa e successivamente tentato una riconciliazione, la coppia sembrava ormai destinata a separarsi definitivamente a giugno, quando Sofì è stata associata all'attore Aaron Piper, scatenando la gelosia di Basciano. Un nuovo capitolo per I B A S C I A G O N I. Recenti indiscrezioni provenienti dall'esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica sembrano indicare un nuovo sviluppo nella complicata storia d'amore tra i due. Secondo Rosica, Sofì e Basciano avrebbero deciso di provare ancora una volta a rimettere insieme i pezzi della loro relazione, intraprendendo un percorso di riavvicinamento caratterizzato da maggiore cautela e discrezione rispetto al passato. L'opinione diffusa è che potrebbe trattarsi del tentativo finale di riaccendere la fiamma dell'amore tra i due. Una situazione dal finale incerto, a quanto pare, la decisione di Sofì e Basciano di incontrarsi di nuovo arriva dopo una serie di eventi che hanno messo alla prova la solidità del loro legame. Mentre recentemente Alessandro era stato collegato alla modella Antonella Fiordelisi, ex amica di Sofì, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a un presunto flirt tra i due. Tuttavia, la situazione attuale sembra delicata e piena di incognite, lasciando spazio a molte domande sul futuro della coppia Basciagoni. Prospettive future. Il gossip circolante attorno alla coppia continua a tenere banco sui social e sui media di settore, alimentando le speculazioni sul destino di Sofì e Basciano. Mentre i sostenitori di entrambi incrociano le dita per un lieto fine, solo il tempo potrà rivelare se questo nuovo tentativo di riavvicinamento porterà alla stabilizzazione della relazione o se si tratterà solo di un'ultima, malinconica danza tra i due ex coniugi. Ultimi aggiornamenti rilasciati da Alessandro Rosica sembrano confermare che i due stiano procedendo con attenzione in questo riavvicinamento, ma soltanto il futuro potrà svelare se questo sarà l'inizio di una nuova pagina nella loro storia d'amore o se si rivelerà soltanto un'altra parentesi destinata a rimanere nel passato.